fratelli sorelle amici cari buona giornata dio benedica la vostra vita oggi 15 maggio 7 del mattino leggiamo insieme dal capitolo 7 del libro di david plat seguimi edito da clc crociata del libro cristiano parliamo del corpo di cristo e per presentare questo argomento david plat parte da una situazione particolare una stanza gremita di persone e un predicatore che aveva il pubblico in pugno voglio dire a tutti voi di chinare il capo e chiudere gli occhi disse il predicatore e tutti seguirono la sua indicazione poi dichiarò stasera voglio invitarvi a riporre la vostra fede in dio stasera vi sollecito ad avviare una relazione personale con giusù per la prima volta vorrei essere chiaro disse non vi sto invitando a entrare a far parte della chiesa vi sto invitando ad andare a cristo mentre il predicatore sollecitava appassionatamente delle decisioni personali moltissime persone si alzarono dal loro posto e scesero giù per i corridori dell'auditorium per prendere una decisione per cristo c'era un problema però in tutto ciò queste persone erano state ingannate era stato loro detto che è possibile prendere una decisione per cristo senza prendere un impegno per la chiesa in realtà però è biblicamente impossibile seguire cristo senza unirsi alla sua chiesa di fatto chiunque affermi di essere un cristiano senza però fare attivamente parte di una chiesa forse in realtà non è affatto un seguace di cristo per qualcuno forse per molti può darsi che questa affermazione suoni eretica stai dicendo che unirsi a una chiesa renda qualcuno un cristiano assolutamente no entrare a far parte di una chiesa non rende cristiano nessuno nel modo più assoluto tuttavia identificare la propria vita con la persona di cristo è equivalente a unire la propria vita con il popolo di cristo sottomettere la propria vita ai suoi comandamenti e votare la propria vita alla sua chiesa e biblicamente spiritualmente è praticamente impossibile essere un discepolo di cristo e meno che mai fare discepoli di cristo senza una piena dedizione a una famiglia di cristiani tanti però oggi pensano che è possibile e cercano di vivere come se lo fosse oggi è diventato perfino un indice di maturità spirituale per alcuni dichiarare di essere cristiani che non sono attivi in nessuna chiesa sono innamorato di gesù dicono alcuni ma la chiesa non la reggo proprio davvero ma la chiesa non è la sposa di cristo che cosa penseresti se dicessi di te amico ti voglio bene ti ho mai detto però quanto trovo insopportabile tua moglie lo prenderesti come un complimento allo stesso modo la chiesa non è forse il corpo di cristo che cosa penserei se mia moglie mi dicesse davide io ti amo ma il tuo corpo non lo sopporto di certo non lo prenderei come una lusinga è impossibile seguire pienamente gesù senza riuscire ad amare la sua sposa ed è impossibile pensare di poter godere di cristo a prescindere dal suo corpo gesù ci spinge tanto avanti nell'identificazione della chiesa con se stesso da arrivare a chiedere a saulo sulla via di damasco saulo saulo perché mi perseguiti saulo non aveva perseguitato cristo aveva però perseguitato i cristiani e cosa significa questo se non che gesù stava dicendo quando crei dei problemi a loro ai cristiani alla mia chiesa tu stai creando problemi a me andare a cristo è diventare parte della chiesa e i seguaci di gesù hanno il privilegio di essere identificati con la sua famiglia quando moriamo a noi stessi viviamo per gli altri e tutto ciò che cristo compie in noi incomincia a influenzare tutti coloro che cristo ci mette intorno riconoscere questa realtà e vivere le relazioni che dio ha espressamente previsto nella chiesa per coloro che gli appartengono sono aspetti essenziali dell'essere discepoli e del fare discepoli in tutte le nazioni a tal proposito mi permetto di aggiungere è opportuno leggere i versi che nell'epistola ai romani nell'epistola ai corinzi e più in generale nel nuovo testamento parlano della chiesa del corpo della sposa e dell'essere uno parte dell'altro e signore ci aiuti a poter attuare anche questo principio nella nostra vita affinché possiamo insieme al corpo di cristo seguirlo e servirlo e non fare la fine di elia che si inoltrò nel deserto si isolò da tutti cadde in una depressione spirituale si rinchiusi una spelonca cosa gli disse dio puoi rimanere lì è la scelta giusta fai bene a fare questo o non gli disse forse che fai lì elia e quale fu l'invito poi se non quello a uscire dalla spelonca e a ritornare in mezzo a israele per continuare a proclamare quel messaggio che egli stesso gli aveva dato che dio ci faccia grazia affinché possiamo onorare il signore in ogni cosa insieme al corpo di cristo che dio ci benedica che la sua grazia ci accompagni e che la sua pace sia con tutti quanti noi dio benedica la vostra vita grazie a tutti Grazie a tutti.